prima naturalmente dell'illuminazione no, questo avveniva tra vivere dell'accoglio perché le vie, vedi? lì sotto serpeggia sempre l'infinito e l'imponderabile l'imponderabile si nasconde perché è tutto contemporaneo soltanto l'attore è veloce e mette insieme la contemporaneità in linea come dice mia moglie finché non se ne accorgono ti raccontava Franco Branciaroli illustriattore c'è anche come si dice albergasso l'ha affascinato anche dallo specchio e dalle varianti dell'attività di conoscenza del mondo che può permettere io adesso voglio diventare attore ma non c'è più non ti fanno fare più i sauvage no, peccato perché è divertente c'è più l'età e il fisico con Brass questo è stato bello si è divertito si molto tra l'altro Brass è attento anche al teatro è un uomo di cultura si ha fatto anche teatro si ha fatto la regia anche mi ricordo in questo mondo rutilante scusate ma a me è successo qualcosa dietro al Quinte scusa quelle cose orribili che mentre fai una cosa super seria Shakespeare, Cove c'era un punto dietro succedono le cose inennarrabili sì sì a parte le grandi litigate poi c'è attore tecnici che è quella cosa meravigliosa si guarda dietro ma mentre il pubblico lì è preso da questa ipnosi collettiva di questa rappresentazione che poi è finta naturalmente oltre a darla a bere e oltre a bere voi sul palco qualche episodio dietro è un po' abbastanza di queste cose da raccontare se ci sono fantastiche qualcuno che casca nella buca purtroppo ne conosco uno ma non si può dire perché riguardava un grandissimo regista dove la moglie dietro al Quinte vabbè allora questo non lo dice però proprio dietro al Quinte continuava questa tresca con questo attore che poi la cosa divertente è che veniva rimproverato quando usciva in scena all'insegno di cane non la fai e poi dietro al Quinte quindi si creava una situazione pazzesca fantastica dove l'ultimo sapere era naturalmente lui e quindi e tutti sapevano una tensione terribile perché il teatro è un tempio c'è una rappresentazione tempio e casa tempio e casa un condominio un condominio piccola casa e grande mondo una nave una nave che si muove quando trova il vocabolo come gli parte cade qualcosa di sostanziale è una ciurma è una vera ciurma come sono messi i giovinastri oggi secondo le Brancini male male perché appunto quella profezia famosa ma famosa la cultura antiquata fa sì che ormai il teatro non è più diciamo il testo non è vero la parola ma è ormai apri chiudi il frigorifero accendi la sigaretta balla un po' salta non si proviene più dalle facoltà di filologia ma dalle accademi di belle arti comunicazione comunicazione esatto e quindi in scena vedi dei cioè quel che vedi nel bar di sotto oppure vicino di casa insomma cerchi di rappresentare la semplicità delle cose cercando di passare da una cosa molto più complicata no più che altro si si è affascinato dalla realtà ma la interpreta in maniera molto diciamo si affascina dell'orrore anche la realtà c'è una definizione che mi ricordava guardate che il naturalismo è comunque uno stile non è naturalezza naturalezza è una stronzata diceva il maestro quando parla così non so più se è lui se è un altro il naturalismo è comunque uno stile bisogna averlo non è la naturalezza è questo quanto gli sarei piaciuto al maestro io che peccato eh vabbè è andata via poi non ci sono neanche più quelle belle dei tinto brass anche su quel versante è calato bensur perché perché una volta le belle ragazze e i bei ragazzi facevano gli attori adesso no che non si guardano più niente quindi le belle ragazze fanno le velline e i bei ragazzi gli steward non so cosa faranno gli steward marca male però non è più una volta quindi c'è quelli brutti dici è vero adesso le accademie di arte drammatica sono più brutti quindi io potrei trovare la vostra ma ce l'ha detta però un po' un po' di pianco l'avrebbe detta di vento Carmelo veramente sono tutti più brutti le ha detto un po' impaurite tutti più brutti che tu hai se ci fassi di bastone lei è uno degli ultimi sex symbol diciamo del palco lei così si può dire non so se ti piaccia lasciarpe il cappotto lasciarpe il cappotto un po' mi piace è andato con Tinto Brast ha fatto quelle cose devi essere per forza Tinto vieni a trovarci subito beh comunque Bracciaroli che è giovane però insomma per le esperienze fatte per il tipo di di training sei tra i giovani maestri attuali non va negato senti questa responsabilità un anziano bidello e un giovane maestro esatto eh sì la sento no non la sento ah no si diverte Vasco de Gama Franco Bracciaroli a Vasco de Gama siamo l'onorati ti hai impressionato molto Vergazzola che mi ha già detto sai quelli brutti sono bravi guardava a me no quelli che non sono buoni adesso fanno guardava a me la naturalità di chi non capisce guardava a me quindi mentre prima erano belli e bravi adesso saranno brutti e bravi nel caso questa è una leggenda cioè c'è sempre detto brutti e scarsi ultimamente solo cani mi sembra no 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 non c'è più non so niente sono una cosa diversa da quella che Bracciaroli intende per la bellezza diciamo però così è la vita senta Bracciaroli lei se ne va continua la navigazione per Milano se ne va in quel di Milano che tra un paio di giorni mi sembra di capire col Don Quixote lei al teatro piccolo piccolo streller teatro streller al teatro a Milano parla romano questo è fuori sincro sempre ci vuol concludere appunto dicendo ancora qualcosa che possa essere una chiave di lettura tipo si cuca ancora facendo teatro questo che vogliamo sapere no 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 su Don Quixote su Milano Milano come la trova come piazza teatrale è sempre bella buona c'è un teatro ben organizzato poi il teatro bisogna organizzare una macchina bisogna organizzarlo bene in Milano c'è il piccolo è il piccolo è il teatro ma noi non ci hanno chiamato a fare il piccolo quando facciamo il Don Quixote e noi ci si va la prossima volta altrimenti hanno chiamato lui per cui accoglierà con entusiasmo presumo questo ricordo anche dei due grandi maestri credo di sì perché quando senti le voci un magone come dicono in Milano il magone ti arriva come diceva mio amico una volta è arrivato il magone quei gioconi di prestigio però al di là del cinismo che l'attore deve avere altrimenti morirebbe davanti a tante tragedie insomma lei ha davvero anche dei momenti di vibrazione cioè lei vibra Brancionoli lei vibra sentendo riattualizzando bene e Gasman sì ogni sera è un esercizio misterioso è una preghiera sentato serio no sai perché in genere quando tu fai dopo due repliche diciamo invece qui ogni sera ti costringe a rifarti vivere torna quella roba lì perché è legata o è incarnata eh sì anche perché se non lo fai così non ti viene bene se non ci credi non ti viene poi ragazzi il tempo che passa è sempre per tutti un po' di magone posso bendare quest'uomo con il nostro testo di Don Quixote Riondine Vergassola che bendano il nostro come si chiama un amuno un amuno è l'altro un amuno e quindi lo bendo e lo manderei su questa passarella che per l'occasione l'abbiamo fatta giusto col proscenio con una buca in mezzo e mentre lo spingiamo leggermente con tutto rispetto che sia di un grande attore gli facciamo dire un'ultima un'ultima riflessione senza le nostre voci petulanti sopra ricordatevi che i due Quixote e Sancio non sono due estremi opposti eh non sono le due metà di un'arancia ma è un solo e medesimo essere visto dai due lati addio non molla ma guarda come muota ha fatto un carpiato arriva una zattera piena di pubblico di registi di attori di personaggi vivi e passati che lo porta all'insalvo come si chiamava Franco Brancelone il nostro più grande attore ah si hai venuto a trovare ha sbagliato piano il radio allora ci salutiamo ringraziamo sabato prossimo Vasco da Gama Riondino e Vergassola salutiamoci sentiamo su Radio 2 a Milano dal 10 al 15 a vedere Don Quixote magari veniamo dietro